Bella a tutti ragazzi, io sono Alex Ciao Bella a tutti ragazzi, oggi siamo su Anisolation Bella a tutti ragazzi, oggi siamo su FIFA 15 Bella a tutti, bella a tutti ragazzi Bella a tutti ragazzi Bella a tutti ragazzi, bella a tutti ragazzi Chione Bella a tutti ragazzi, bella a tutti ragazzi Bella a tutti ragazzi, bella a tutti ragazzi Oggi giochiamo a Monstrum ma bella a tutti ragazzi oggi siamo su the forest bella ma bella a tutti ragazzi oggi siamo su epico ma bella a tutti ragazzi bella ma bella a tutti ragazzi bella oggi siamo su five nine three three bella a tutti ragazzi oggi siamo qua sarà molto schitto e veloce dovrei far uscire sto video qua fra esattamente due ore e mezza però non penso di riuscirci penso uscirà con qualche ora di ritardo finalmente abbiamo raggiunto il primo traguardo i 100 iscritti un traguardo che per molti potrebbe essere niente o poco ma per me comunque davvero è un traguardo non sono pochi 100 iscritti e il fatto che mi sono sudati perché alla fine mi sono sudati in quattro o cinque mesi che cercò di far uscire i video meglio soprattutto gli ultimi che credo siano quelli più belli ho cercato sempre di farli il meglio se c'era qualche imperfezione cercavo di non far uscire mai il video davvero vi ringrazio davvero davvero tanto grazie davvero non saprei in che altro modo ringraziarvi se non fare uno speciale appunto lo speciale dei 100 iscritti più il giorno del mio compleanno perché oggi si beh non oggi perché sono le 21 27 riuscirà probabilmente con qualcosa di ritardo perché lo farò riuscire a mezzanotte quando c'è il mio compleanno mezzanotte il mio compleanno 19 aprile oggi è 18 wow ok basta niente spero il video vi piaccia alla fine praticamente racchiudo dal primi video fino agli ultimi tutti i momenti più belli più divertenti parti più belli insomma comunque spero vi piaccia ovviamente ci becchiamo dopo guarda guarda oddio 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 che cuore già incontriamo una pistola a volante oddio 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 3 milioni 300 mila credit 3 milioni di crediti Oggi apriremo 50 mila euro di crediti Ok partenza fantastica siamo su un aereo Oggi capodanno cinese Che cazzo me ne frega me A quanto pare hanno bevuto e non hanno fatto il regalo Ah grazie A quanto pare hanno fatto il festino dopo la sala operatoria È andato un po' a finire male però tranqui Grazie mille per l'accendino Quindi ormai da qualche settimana che c'è questa esplosione Alla 32 metri Guarin Se la sente dentro Se la sente fresca Ce la faremo la prossima volta Lo sapevo Lo sapevo stavolta lo sapevo Non ho preso il scato perché ne ero certo Stavolta non ne ero certo Stavolta non ne ero certo Anche voi l'avete visto Stavolta porco due porco vai via Ma che bei denti Suu, snide, pompaif Guardate Tanto tu presentami Guasto tecnico ragazzi Dai Ma non entra qua Ah ma perchè Ah eccolo qua è entrato Ok Questo penso non faccia parte della terra Non penso sia una terra Però c'è la squadra della settimana Eccola qua Dio bono Cosa Dio bono Dib 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 Tu vuoi toccare? Ok non tocco niente Ma che t'ho visto eh? Ha fatto un cazzo Ti prego Ma che bei denti Oddio Soggiorno Oh Ah Ah a 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 o madonna quanto sei bello ti patendo nervoso ti giuro e se io ti inculassi tipo così posso pure collare lì dietro a a a win questo ragazzo qua ha 5 stelle skill quello lì che hai trovato adesso ti diverti un casino con lui divertimento assicurato a 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 non so se avete visto quello che ho visto io a 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 ma non ci credo neanche io gesù se mi senti ti dico santo grazie ehi bello forco due che cazzo sono ancora vivo forco due a che cazzo no ok sono ancora vivo vaffacculo sta accendendo la pirouetta che cioè proprio parto con la sfiga sono uscito sta cominciando a piove ma non ci credo gesù sei tu ragazzi questo qua è l'ultimo pacchetto ci giriamo ci giriamo a 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 e finisce così 5 a 2 vittoria meritata almeno sei un figlio di puttane corri corri ma corri che cazzo ti fermi a un abbraccio madonna cara secondo me bisogna andare di l'acqua no they watching no they watching they watching you they watching they watching they having you are you good you can you can you have to do a hot like holy questo è fifa, niente è impossibile maria io esco ah che ti ho visto eh quanto cazzo stai lento frate no come ho fatto? no vi giuro non ho fatto il posto no 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 dai e beh no che perdiamo cosa? cosa vuoi? cosa vuoi? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti.